sembra olio per motori e qua siamo nella nuova frontiera della mostruosità sempre per motivi di business non ce ne accorgiamo ma è ovunque biocarburante dove il prefisso bio in questo caso sa significare soltanto la provenienza dal mondo vegetale ma non è un prefisso che indica un beneficio è a dir poco terrificante quello che sta accadendo poi se ne fanno olio da frittura in tutto il mondo enormi quantità di olio per friggere lo trovate in una forma che soltanto a nominarla fa paura olio di palma bifrazionato è la parte peggiore dell'olio di palma ed è quello con cui friggono tutte le friggitorie al mondo ormai perché costa pochissimo fa una frittura asciutta perché il consumatore che non ha fritto non gradisce l'unto quindi ha anche questo vantaggio e viene usato n volte nella friggitrice industriale grazie 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 grazie